Giorgio io sono Franco tu non sei un figlio di una cosa non ti ricordo che ci siamo a pesca insieme ma non ti ricordo che cosa ti ha fatto ma ci ha fatto un bruco senza capire un capo e che cosa ti ricordo quando facciamo risparmi oh ora mi ricordo tu sei Franco un pescatore quello con cui andavamo sempre insieme a fare tutte quelle cose belle con le reti e abbiamo pure cucinato insieme e ti ricordi com'era quella canzoncina bella bella com'era? abbraccia la marina se vende un pesce ora bella caro bello mio che bella cosa vedi di nuovo poi taglia la secca è stato un piacere anche per me ma di cacchi lo conosce questo pescatore maledetto le nuove avventure di Giorgione in Giorgione Porto e Cucina solo su Gambero Rosso Channel che è stata un'immagine che è stata un'immagine che è stata un'immagine